La volontà di Dio, prete, siamo noi a decidere quale sia la sua volontà. Ciao a tutti, amici lettori e amanti dei fumetti, benvenuti a questa nuova recensione, quarto numero di Samuel Stern. Allora, questo quarto numero è un episodio che si svolge, prima particolarità, in trasferta. Infatti vedremo Samuel Stern, che non è nella sua Edimburgo e dintorni, ma appunto in un'isoletta, sempre comunque facente parte della Gran Bretagna, ma comunque appunto una piccola isoletta distaccata. Viene questo numero 4 dopo, se avete visto anche la recensione, sono andato a recuperare, un fortunato numero 3 che mi è particolarmente piaciuto per il modo in cui sa stupirti, ancora una volta ritengo che questo numero 4 abbia avuto il pregio particolare di sapermi stupire. Stupire per questo approccio sempre diverso in merito alle possessioni demoniache, al modo in cui viene sviluppato e alle incertezze che provoca negli stessi protagonisti. Copertina, ancora una volta, di Piccioni di Vincenzo Tanzillo, che ribadisco vuole settare appunto un trend, un continuum, vuole mantenersi sempre riconoscibile tra le altre uscite in Edicola. Però in questo caso, rispetto al numero 3, alquanto meno il soggetto mi piace molto più nettamente, c'è un focus, una messa a fuoco rispetto un po' all'ensemble generale, molto più riuscito dal mio punto di vista. I disegni invece all'interno sono di Ludovica Ceregatti, il suo stile, devo dire, non è secondo me niente male, e riempie finalmente le vignette, non sempre, è così, ma molto di più del quanto si vede, quanto ho visto negli altri albi, insomma, in alcuni in particolare di Samuel Stern, e che è una parte un po' più che ho criticato, perché appunto dà come questa sensazione di minore impegno e di disione nell'approfondimento, nel dare profondità al disegno sulle varie tavole. E qua un dettaglio davvero, davvero molto ispirato. L'unico aspetto, se posso, che mi ha lasciato un po' critico è che certe volte il suo stile lascia le facce dei protagonisti definite in modo strano. Vedete ad esempio qua, c'è quelle di padre Duncan e di Samuel Stern che hanno la barba, questa barba che appunto gli va a finire, non finire sempre. L'unico aspetto, ma dovuto più che altro appunto di come si possa sposare questo stile, evidentemente, a questa interpretazione di questi personaggi barbuti. Ma è solamente una piccola, diciamo che nel complesso, se vogliamo, è la piccola critica e invece i disegni mi sono piaciuti. Andiamo però adesso ad affrontare un attimo la tematica, per quanto sia piuttosto complessa, presentata in questo Samuel Stern, che tra l'altro dà però qualche piccola incertezza su qualche eventuale sviluppo futuro. Potrebbe rivelarsene qualche cosa di estremamente, ulteriormente appagante e intrigante, ma potrebbe invece anche, oh Dio, preoccuparmi un attimo. Andiamo a vedere. Il giovane prete Joseph si rivolge a padre Duncan in quanto è preoccupato per il suo amico, Neil Porter, con cui ha fatto assieme il seminario. Gli scrive da una piccola isola in cui è vicario di tale padre Andreas. E tale Andreas sarebbe convinto che il demonio si sia impossessato degli abitanti dell'isola e starebbe facendo di tutto per estirparlo, anche con metodi poco ortodossi, quali rinchiudere ed interrogare una giovane donna venuta da fuori. E si sospetta che in questi interrogatori sia potuto ricorrere anche alla tortura. Ovviamente i tre andranno subito in spedizione verso l'isola dove cominceranno ad indagare su padre Andreas. E ovviamente non sarà facile. Padre Andreas si rivelerà subito scontroso e poco avvezzo a dare riscontro su ciò che pensa e sui suoi metodi. Verrà così a galla il passato tormentato di padre Andreas ed il motivo per cui sia stato inviato come parroco di quella piccola comunità. Ma padre Andreas potrebbe avere anche le sue ragioni per agire in un certo modo. Pare in effetti che anche tra qualche abitante dell'isola ci siano soggetti dal comportamento non proprio limpido. Questa situazione metterà ancora una volta in conflitto gli animi e le diverse morali di Samuel Stern e padre Duncan ed alla fine sveleranno un mistero che metterà a dura prova persino le loro credenze, facendo emergere una situazione in cui il male ed il bene si confonderanno. Quindi questo quarto capitolo cavalca, secondo me, in modo ancora fortunato, la questione di poter eventualmente riconoscere il bene ed il male e questo quindi inculcare in Samuel Stern, in padre Duncan, qualche dubbio morale, queste incertezze sul loro modo, il loro tentativo di cercare di perseguire sempre il bene. La storia quindi nel complesso mi è piaciuto per come in parte sa spiazzare. C'è qualche fase critica anche qui sulla sceneggiatura, in particolare ho avuto qualche dubbio, ad esempio, sulla caratterizzazione di Samuel Stern, più che altro se vado a vederlo guardando agli albi precedenti. Qui mi è parso che abbia degli scatti di ira, delle cose che non erano state sue, erano proprio fuori dal personaggio negli albi che ho visto qui fino ad ora. Quindi il vederlo particolarmente stizzoso, adirato, mi ha reso subito un po' stupito, lui che era abbastanza, insomma, posato nell'affrontare le cose, anche quelle più difficoltose. C'è lo che quindi, insomma, qua mi è parso dare maggiormente innescandescenza in maniera meno coerente rispetto al personaggio. Questo magari è solamente uno spesamento momentaneo che invece rimarrà coerente per il resto del Samuel Stern da qui in poi. A parte questo, però, comunque, dicevo, buona la parte, come al solito, diciamo psicologica, quella che affronta un po' la tematica più sulla morale. Mentre al contrario, come al solito lo dico, secondo me la questione demoniaca, diciamo così pura, è ancora la parte, da parte mia, meno acchiappante. In generale perché comunque questi demoni, quando si manifestano in maniera più fisica, viva e non solamente teorizzata, fanno un gran casino in certi temini, graficamente, se vogliamo, all'esterno delle stesse tavole, ma alla fine incidono poi per quel tanto. E così fa un po' strano, no? Vedere che la parte demoniaca è quella che dovrebbe essere più terrificante, più e così, invece, è quella che tutto sommato ti scuote meno, la parte che ti trascina di più sono i dilemmi morali di uno, dell'altro, è quello che si trovano ad affrontare. In più questo albo, come dicevo, mi ha lasciato una scintilla di preoccupazione per quanto riguarda l'inserire un personaggio, un qualcosa, che, diciamo, si introduce in una meccanica che potrebbe far intravedere questo conflitto tra bene e male, questa vera e propria guerra tra bene e male, che da un lato magari non dà particolari punti di riferimento, no? Cosa è veramente appunto il bene e cosa il male. Questo è bene dal punto di vista dell'appassionarsi a livello di trama. Dall'alto un po' questo timore che trascini tutto in una dimensione, un filo troppo esoterica, e meno a contatto con la questione della psiche umana, a meno qui più di tanto non lo è rimasto quando si è afferito questo personaggio qui di cui parlo. E' quella parte che appunto, ho detto, ha reso più umano, più intrigante fino adesso questo Samuel Stern. Ma per ora rimane una scintilla di preoccupazione, che al contrario, se appunto gli verrà dato lo spazio nelle modalità giuste, per cui spero, potrebbe al contrario magari apportare profondità alla serie, quindi maggior interesse, soprattutto magari in una continuità di maggior distanza. Questo un po' si può intravedere. Questo è quanto per quanto riguarda questa recensione del numero 4. Attendo a questo livello con una certa curiosità, ovviamente i prossimi uno, due numeri, il 5 e il 6, che ho già recuperato, come avrete visto, negli acquisti del mese. Naturalmente fatemi sapere qual è stato l'andamento, almeno fino a questi primi numeri, 2, 3, 4, 5, qual è quello che vi appassionati più, per capire se abbiamo un po' rispetto a voi gli stessi riferimenti, le stesse cose che ci piacciono, oppure cogliete altri aspetti che vi esaltano di più in questa serie. Per questa video recensione ancora una volta è tutto, naturalmente domande e commenti, anche quelle nei commenti qui sotto, noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao da Viper!